Buongiorno a tutti da Enaudi Tg. Siamo qua con alcune classi dell'Istituto Enaudi di Ferrara che visiteranno alcuni dei padiglioni di Expo Milano 2015. Emma, Emma, cosa ne pensi del tuo hotel? Sto da calzino! Queste meduse vengono dall'Istituto Oceanografico. Il problema è che sono troppe nei mari di Monaco perché l'acqua è molto calda e inquinata, perciò si producono con facilità. Musica 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 si scivolava grazie ma è stato così reattiva per l'ambiente per un mondo più pulito grazie 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 a tutti Grazie a tutti